Antonio Foglia Manzillo, allenatore dell'Olimpia Agnonese, arriva a una sconfitta, forse mister, più che mai immeritata in questa partita contro la Capolista Matelica. Per quello che si è visto nell'arco dei 90 minuti il pareggio ci sarebbe stato stretto, ma penso che questo l'abbiano visto tutti e l'onestà intellettuale che contraddistingue anche lo staff tecnico del Matelica, credo che lo riconoscano anche loro. Detto questo, se non fai tre gol come avremmo potuto e dovuto fare nel primo tempo, poi succede che al primo errore una squadra così esperta e forte come il Matelica ne approfitta e poi si complica la partita perché poi chiaramente ti abbatti. La cosa importante è che sul 2-0 i ragazzi ci hanno creduto, hanno trovato il primo gol e per la verità avevano trovato anche il secondo. Sinceramente un fallo di mano che ha visto soltanto l'assistente, il ragazzo piange negli spogliatoi, ha detto che l'ha presa di testa, c'è gente dietro la porta che mi dice che l'ha presa di testa. Io sono di una convinzione, il fallo di mano lo devi vedere, non lo devi intuire. Se tu pensi che l'abbia preso di mano non puoi alzare la bandiera, lo devi vedere. E quindi, peccato perché poi alla fine un punto era poco, però perlomeno andavamo a casa soddisfatti per una bella impresa, 0-2, 2-2. Invece ce ne andiamo con un pugno di mosche in mano e adesso fra quattro giorni andiamo su un campo antipatico difficile e dobbiamo recuperare energie fisiche e nervose che non so fino a che punto recupereremo. Il rammarico per il risultato rimane, però la prestazione è stata ottima, specialmente dopo una partita giocata male a Francavilla. La risposta c'è stata? La risposta c'è stata, ma io lo sapevo. Se siamo questi, non ho motivo di dubitare che siamo questi, allora il futuro per noi sarà sicuramente più roseo rispetto alla classifica attuale. Però adesso la situazione è un po' antipatica perché i ragazzi sono frustrati e ripeto, fra qualche giorno andiamo a Forlì, poi c'è la San Giustese in casa. È antipatica come situazione. Sinceramente oggi dovevamo fare i punti perché lo meritavamo, però adesso dobbiamo farcene una ragione. Nulla da rimproverare sotto l'aspetto dell'impegno, bisogna essere un po' più cattivi sotto porta. Ah, è chiaro, se fai tre gol il primo tempo poi non succede quello che è successo nel finale. Dobbiamo anche dire bravo al portiere però, perché comunque alla fine ci ha messo lui lo zampino. Diciamo il Matelic è primo anche per questo motivo, perché non hanno fatto l'errore che abbiamo fatto noi dietro. E hanno un ragazzo del 2000 che ha tolto perlomeno 4-5 palloni dalla porta. Quindi alla fine se è prima il Matelic ha un motivo ci sta. Un'ultima cosa, mister, come ha detto lei pochi giorni bisogna lavorare di più adesso sulla testa dei ragazzi e non sul fisico. No, sicuramente, innanzitutto sul fisico nel senso che dobbiamo recuperare queste energie fisiche. Poi dobbiamo lavorare sulla testa, dobbiamo dimenticare l'aspetto negativo di questa partita, dobbiamo soltanto ricordarci quello positivo di questa partita e andare avanti. Ci sono tante partite, oggi diciamo sono un attimino più sereno e tranquillo rispetto a sabato scorso. Però è anche vero che poi non dobbiamo guardare la classifica, se no questa serenità la perdiamo, anche se però mancano tantissime partite.